Musica Hola compagneros, qui Jim Lemon e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui su Doom 3 BFG Edition Allora, che cosa contiene questa edizione e che cos'è? E' un restyling grafico in HD, diciamo, di Doom 3 Ma non solo di Doom 3, in questa seguizione contiene anche il primo Doom, il secondo e il terzo naturalmente E oltre a questo, in Doom 3 abbiamo anche, adesso vi faccio vedere, una nuova partita Doom 3, Resurrection of Evil e Lost Mission, che sono le missioni inedite mai giocate Oggi iniziamo con 2-3 e faremo... farò 3-4 gameplay, non di più Perché così voglio farvi conoscere anche tutti gli altri giochi Conoscere non è la parola adatta perché neanche io ho mai giocato a Doom E vabbè, lasciamo perdere, comunque questa edizione è proprio qui per me E quindi, grazie a fondi venitati e alla possibilità di effettuare ricerca di fuori di regole morali e legali E non spalate di merda a basso subito E niente, iniziamo subito il gioco Taglierò tutti i video iniziali, tutta la parte iniziale che non succede una beata minchia E andiamo subito a farci prendere un po' di colpi dopo Ciao ciao! E eccoci qui In poche parole, noi siamo i pivelli più alti in grado Dobbiamo andare a cercare un membro della scientifica che è scomparso Adesso ci danno delle armi Ma dai! Questa pistola mi dai! Ma scusa, ma qui ci sono tutte queste belle armi! Guarda! Ma sei davvero uno stronzo! Va a fare in culo! Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco, ciao! Eccoci arrivati! Eccolo qui il nostro amicone Cosa hai visto? Dimmi Il diavolo esiste? Tanto guardate la faccia del mio mino lì dietro Come se fosse pazzo sto cilindro Infatti non lo è Magari forse è stato pazzo Pazzo, è uscito il po' Ce ne ha la lucina Cazzo succede qui adesso Che cazzo? Oh, oh! Puttana! Che cazzo? Ce cazzo è? No, no, no! Oh, oh! Oh, sapphire! Oh, no, no! Vai via! Io il tuo braccio non lo voglio, non lo voglio Possiamo andare? Oh, oh! No, cazzo spari tu! Salvataggio Eh, ho visto che siamo attaccati Porca puttana Porca puttana Ah, un altro Un altro che vuole il mio braccio Ma io non glielo do Oddio, andiamo via Ma che palla Ma proprio me mi dovevamo mandare Sto posto di merda Eeeh Fa il culo Ragazzi aspettate un attimo Che mi pare che ancora Il volume sia un po' troppo alto Se vediamo tra poco Ok, ho provato ad abbassare un po' Però O non si abbassa O sono io lo stronzo Che non riesce a farlo Va bene Andiamo avanti Cercherò di parlare un po' forte Ma Starò in dei limiti Perché Mi hanno cavato da poco Uno dei quattro detti del giudizio Ed è stato davvero Una bruttissima esparienza Esparienza Madonna Come parlo male Eeeh Che cazzo fai tu? Ah che t'ho visto eh? Mica credere che non ti abbia visto te Ho sto a fare un po' con l'osco Eh ma vaffanculo Ma chi è? Ma perché mi attacca? Io faccio solo il mio lavoro Eeeh Eeeh vaffanculo Ma puttana Di qui mi vogliono molto Comunque se c'è qualcuno Potrebbe venire a darmi una fottutissima mano Stai giù Stai giù Puttana Di qua? No Mi altro c'è Eeeh Vaffanculo Ma mica ho paura di te Meglio che tu non venga mai eh Se no Finisce male per te Quello lì è scappato Da dove cazzo scappava Madonna quanto ci metti Dai ponte Ma perché dovete ritirare un ponte? Ok Questo? Questo mi lancia le cose Eh Che cazzo? Ah no devo ricaricare Oh vabbè ma mi spari anche dai muri? Adesso? Eh? No non lo so io Sì devo anche iniziare a coprirmi un po' Lo immaginavo Lo immaginavo Cioè si vedeva benissimo che c'era uno lì Schifoso Cioè ma un'altra arma mi farebbe comodo You know? You know? Ma baby Baby Eh sì Cioè Cazzo fai Fagli acquati Tanto lento com'è Oh 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 C'ho la pompa Vieni vieni Tanta sa forte Sei morto? Che brutto Oddio che brutto bagaglio Ok via 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 Non li voglio più Dai non provare a rianimare Che cazzo è? Eccola qua un altro Ma vai via scheletrino Non è che vai a rianimarmi questo? No No perché Visto che Dice Eh Eh No 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 Vai via Te col pompa non mi piace per niente Oh Boh 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 Cioppa Eh ma vaffanculo Ma che cazzo Ma che stai qua sbucano dal culo Delle Della navicello spaziale Per te Per te Un bel cazzotto Ma dai Ma crepa Eh vaffanculo Perché io non Io gli sparo Ma non No io gli do i pugni Ma non gli faccio niente Che palle Milano ci si può andare E qua Ma che cazzo succede adesso Oddio Oddio se sei brutto Oh no 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 Non ti avvicinare No 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 Neanche il tuo braccio voglio Guarda No che cazzo spari Stupido bagascio Crepa Lurido stronzo Oddio 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 Justate un altro T'ho detto vattene No 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 Vattene Figlio di puttana Ah Madonna Sti luli di stronzi Eh va beh Te Non mi fai neanche più paura ormai Che cazzo si ma questi qui escono dai funicoli fanno bubussette da dietro no ma vaffanculo e te da dove vieni battene eh come stavo dicendo io questi qui escono dal buco del culo ti fanno bubussette applicazioni mediche spero che me li abbia applicate sta suonando il telefono arrivo tra poco ok rieccomi come dicevo in altri video io non riuscirò mai a fare un video oh oh frocio puttana che cazzo fa un mezzo canguro adesso una rana vabbè che ti faccio avvicinare a te brutto e vabbè una pompata in faccia non riuscirò mai a fare un fottutissimo video che non e non venire interrotto allora io da dove devo andare di qua andiamo no puttana puttana vacca ma perchè lui è così è così stronza perchè lui mi vuole abbracciare al volo io non voglio che mi abbracci oh ma dai ma allora ma allora ma ci giapi ma sei ancora vivo ma santo cielo neanche io porca puttana so chi cazzo è questo qui oh 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 affanculo no 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 stronzo basta voglio uscire da qui dai giù vabbè tanti mi aspettavo a te ah esplode quel barile cazzo avevo sparato un colpo oh oh ma allora comando qui squadra bravo abbiamo un morto e diversi feriti stiamo rientrando e abbiamo bisogno di meno sul posto no uh che culo non vale che avevo sentito un rumore test shopy subito ormai non è che non è il primo gioco oro vabbè possiamo definirlo un po cazzo era quello lì vabbè hanno sparato tutti più la persona però cazzo non è primo insomma che vedo lì un mezzo morto che non si dì anima ecco ormai lo spevo basta basta vattene perché no oh ok scusate ok scusate ho avuto oh le allucinazioni pensavo che mi stessero chiamando ma in verità sono da solo in casa vabbè preoccupante va bene ok eh eh no 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 cioppa ok io quanto siamo rifornimenti torna al centro vabbè questo non mi da un cazzo fornimenti di merda insomma non faccio tornare qua ehm allora aspetta aspettiamo aspettiamo un attimo aperto che cazzo mostavo pensavo costruzione chiesa non si è successo qualcosa non so cosa come un'onda tutta attraverso cacchiare è un'attività non so come si è sopravvissuto non so come si è sopravvissuto ti prego eh cerchi di un cazzo dimmi dove devo andare cazzo devo andare vabbè ragazzi io direi che ci fermiamo qui e poi dopo ah di qua devo andare non mi piacciono no mi piacciono i cunicoli no mi piacciono davvero ma non mi attaccheranno qua dentro spero ok oh 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 ah puttana cioppa ok ragazzi allora mettiamoci quello lì mi stava già male bene allora io vi saluto poi ci vediamo al prossimo gameplay di Doom 3 magari finiamo questa missione ah cazzo mi faccio male finiamo questa missione poi vediamo se ve ne proporrò uno un po' più avanti del gioco bene ragazzi se vi è piaciuto il mio video iscrivetevi e commentate questo qui mi sta sul cazzo alla prossima ciao ciao ciao